E' sceso per strada con un coltello da cucina della lunghezza di 35 centimetri dietro la schiena, seminando il panico tra i passanti e residenti della zona. E' quanto successo nelle prime ore di domenica pomeriggio in Viale Sicilia. Immediato l'allarme dei residenti, che preoccupati per gli ultimi attentati terroristici, hanno allertato polizie e carabinieri che si sono precipitati sul posto. L'uomo, un indiano di 28 anni, alla vista dei poliziotti della sezione volanti e dei carabinieri del nucleo radiomobile, ha gettato il coltello, giustificandosi che poco prima, mentre dormiva nel suo appartamento, aveva sentito dei strani rumori provenire dal balcone. Temendo che qualcuno volesse rubare a casa sua, si è armato di coltello ed è sceso per strada per fare il giro del palazzo. Nel frattempo, un video girato dal balcone di un abitante della zona, che invitava a prestare la massima attenzione, ha fatto il giro del web. Sentito il racconto del giovane, le forze dell'ordine hanno anche perquisito il suo appartamento, non rinvenendo nulla di compromettente o indizi da far ricondurre all'estremismo religioso. L'indiano è stato comunque denunciato dai carabinieri per porto di arma senza giustificato motivo. I carabinieri precisano che non risulta che lo straniero abbia minacciato nessuno con l'arma. Sempre i carabinieri, venerdì pomeriggio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione tre pakistani arrestati giovedì sera per risse, sottoposti ai domiciliari nella comunità del Progetto Vita in attesa del giudizio direttissimo. Si tratta di Khalid Hussein Adnan, Raouf Abdul e Abdul Aziz, tutti richiedenti asilo, i quali dopo essersi allontanati dalla comunità, sono stati trovati dai carabinieri mentre si aggiravano a piedi in via Salvatore Averna. Tratti in arresto, i tre pakistani sono stati ristretti al malaspina. È stato sorpreso dai poliziotti venerdì pomeriggio mentre stava trafugando materiale edile all'interno del cantiere della ditta di costruzione di via Rochester, sottoposto a confisca. In manette in flagranza di reato il 25enne nisseno Cristian Michele Guagliardo, già con precedenti per furto aggravato, violazione dei sigilli e danneggiamento. Ha occultato due stecche di ascisce avvolte nel cielo, fan del peso di 18 grammi, per poi passarle di nascosto al compagno detenuto al carcere di San Cataldo. Una mossa che non è sfuggita agli agenti della polizia penitenziaria, che hanno fermato la donna, una 32enne di Catania, perquisita il detenuto, rinvenendo la sostanza stupefacente. La donna, su disposizione della procura di Caltanissette, è stata tratta in arresto e condotta nella sezione femminile del carcere di Agrigente, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è caccio al pirata della strada che nella notte tra venerdì e sabato ha investito tre auto parcheggiate in Viale Trieste per poi fuggire. Danneggiate una Fiat Barchetta, una minicar, un'Alfa Giulietta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando del caso e i poliziotti della sezione volanti per la viabilità.